Buongiorno, allora spero che si veda perché c'è ancora buio 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 buissimo. Allora, tonno scottato nella salsa di soia, ancora crudo all'interno perché è un tonno abbattuto, e piattoni, piattoni freschi, infatti tutto al microonde ovviamente, con formaggio vegano. Quindi il carbo dei piattoni e delle carote, le proteine e i grassi del tonno, i grassi dell'olio d'oliva e un po' di formaggio vegano sulle verdure, un po' di gallette di quinoa e abbiamo terminato la nostra colazione brunch. E quindi il profilo nutrizionale rimane perfetto. A chi mi dice che in tutti i miei pasti ci sono gli amidi, ricordo che noi saltiamo la cena, quindi il pasto da fare senza gli amidi è la cena, non è sicuramente la colazione e nemmeno il pranzo. E poi vi ho anche aggiornato che non è vero che noi saltiamo sempre la cena, normalmente facciamo il digiuno intermittente adesso sulle quattro volte, cinque volte a settimana perché a volte Paolo ha fame e la sera non è che siamo a contratto a dover stare perfettamente a digiuno. Ecco, quindi quando mangiamo qualcosa la sera però non è una vera e propria cena, ma non so, per esempio un uovo, oppure dell'albume, oppure due noci, tre noci, cioè qualcosa giusto per non andare a letto con i crampi. Buon appetito! Solo cibo vero.